Cioccolatò 2019 qui da Piazza San Carlo, dal cuore pulsante di questa manifestazione che appunto è partita con grande successo con tanti eventi, tanti laboratori, show cooking che aspettano tutti gli amici che vogliono mangiare e gustare il cioccolato a Torino Piazza San Carlo via Roma con tanti appuntamenti anche fuori di Cioccolatò, gli eventi off di questa manifestazione dall'8 al 17 di novembre a Torino, abbraccia veramente tutti gli interessi, dai bimbi ai grandi a tutti quelli che vogliono mangiare un buon cioccolato, gustare, imparare anche a cucinare il cioccolato con i nostri chef e soprattutto tanti gli appuntamenti, per sabato 9 novembre iniziamo dalle 15 con le mani in pasta per i bimbi, per i piccoli con Silvia e Beppe, laboratori, poi avremo la Torino Golosa, la speciale cioccolato in collaborazione con Turismo Torino e i laboratori con gli amici cuochi dell'associazione Cuochi della Mole con Elena, Wendy Bosca e Ugo Mura sempre allo spazio Casa Cioccolatò alle 16 e un evento extra diciamo fuori di Cioccolatò per gli appuntamenti in periferia con i bimbi in festa a Mirafiori in collaborazione con Capitano Rosso alla Cambusa e con l'animazione degli amici della Nida che è l'Onlus che collabora con me, la nazionale degli amici e il cioccolato ha ancora più gusto insieme qua a Casa Cioccolatò con il cioccolato con Spess sempre alla Casa del Cioccolato e poi il mitico Ciocca Cabretour, il tour che parte da Piazza San Carlo e va a visitare il laboratorio della Perla a Torino e poi al mercato centrale a Portapalazzo e dagli amici affini rivendita due con una degustazione di aperitivo dedicato al vermut e al cioccolato quindi un sabato ancora più ricco e poi ancora fino al 17 cioccolato